Ciò che vedete bianco è una parte del lago sul quale sta crescendo la Victoria Regia, che vedete in verde. La Victoria Regia occupa ogni giorno una porzione di lago doppia rispetto a quella che occupava il giorno precedente e così, anche se è iniziata con una piccola foglia, con una piccola piantina, la parte di lago di giorno in giorno ricoperta diventa sempre più grande e diventa velocemente sempre più grande. Tra poco sono passati circa 15 giorni e tra poco non vedremo nemmeno più l'ingrandirsi della porzione di lago occupata, ma immaginate che stia ancora crescendo, 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 ogni giorno raddoppiando la parte di lago occupata. Ecco, qui allontaniamo improvvisamente la telecamera che riprende il nostro lago e lo vediamo tutto. Lo vediamo ormai tutto occupato e ci chiediamo, quando solo Metalago era occupato dalla Victoria Regia.